48 ore fa, dei pastori di capre dei Monti Sattik hanno scoperto l'ingresso di quello che sembrava un bunker abbandonato scavato nella montagna. Un esame più attento ha confermato che si tratta di un presunto rifugio antiatomico fortificato di epoca sovietica. O qualcosa di più. Il comandante Farah Karim ha ordinato a un team dell'LF guidato da Alex Keller, designazione Eco-3-1, di accedervi. Alex non ha più dato notizie dopo l'ingresso iniziale, con l'eccezione di una breve comunicazione in cui notava come i tunnel fossero più larghi ed estesi del previsto. Ripeto, questo è stato il suo primo e unico messaggio dopo l'ingresso. Poi, silenzio assoluto. Farah ha inviato dei ricognitori in zona. Price, Gaz, Farah, la missione è trovare Alex e il team dell'LF ed effettuare una perlustrazione completa della struttura. Se là sotto c'è qualcuno o qualcosa, dobbiamo sapere chi o cosa. E' lontano? No. Ci siamo. Vai avanti. Le funi di Alex. Sono entrati qui. E non sono più usciti. Attenti. Comandante. Movimenti? Nessuno. Meglio, state qui. Nessuno deve entrare. Agli ordini. Se andiamo, controllate quelle funi. A posto. Ok. Se non mi sentite, non cercatemi. E Malika, ti affido il comando. Comandante Karim? Forza. Dopo di te, sergente. Laswell, stiamo entrando. Tieni mia giornata, John. Farah, tieni lì d'occhio. Come faccio sempre. Libero. Sento delle voci. Arabo. Falcatala. 3 di alzata. Solo torcerla. Cambio caricatore. Arrivano. Arazi, qui. Andiamo. Cambio, andiamo. La mia cluna. Sono qui. L'acqua può nasconderci. Nemico, vi sta... Devo ricaricare. Ora sanno che siamo qui. I miei avranno preso questo tunnel. Andiamo. Prendo le scale. Che cazzo è questo busto? Cantiere navale sotterraneo. Cosa vuole Alcatala? Stanno saccheggiando e costruendo qualcosa. L'hanno piazzato per me. Non ti lascio morire qui. Grazie. Carico. Grazie mille. Mi indebito. Corazze, qui. Grazie infinite. Grazie mille. Qui. Allimiti. Nemico. Devo ricaricare. Ricarico. Ho trovato qualcosa. Vedo tre lettere sul terminale. Hanno dato corrente. Forse è una parte del codice. Controlliamo le telecamere. Forse vedremo il timeco. Tunnel. Sale di controllo. C'è un'altra stanza. È una base sovietica. C'è un codice. Ci sono altre telecamere. Alex l'aveva capito. Prima di svanire nel nulla. Ho un altro codice. Noi. Noi. di nuovo. Sidenzio. Tira nel due calcio. Devo ricaricare! In piedi soldato! Senti! Grazie a tutti 6, 4, 0 Bene Ecco una nuova sequenza Ora ci sono 4 lettere C'è un'esca 6, 8, 4 Sei, otto, quattro Ancora uno Ora mostro cinque lettere Due sono esche Controlliamo entrambi gli schermi Forse il codice è diviso tra essi Sette, quattro, otto La porta del silo si apre Watcher 1, chilo 01, prova Qui Watcher, in ascolto È una base sovietica, occupata da Alcatala Nessuna traccia di... Ricevuto Dobbiamo capire cosa cerca Alcatala E se collabora con i russi Proseguitela per l'ustrazione Alcatala con tecnologia russa promette male Watcher, chiudo Una bombola Benvenuti nel mio mondo Ce n'è solo una Ma non l'hanno preso Forse hanno trovato di meglio Orse hanno trovato di meno Orse hanno trovato di più Per i russi systemat integral Quanti per l'unasione 稍ili Err uno Le'dia mi Grazie a tutti. 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 Campo libero. Alimentando qualcosa. Seguiamo i cavi. Generatore acceso. Il relatore è acceso. Grazie a tutti. 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 Game росoo grown aumento. Grazie a tutti. Credo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cerchiamo qualcosa da usare per trasmettere la sequenza. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Bene, sistema pronto. Presto, abbiamo solo un minuto per immettere la sequenza. Droni bomba in arrivo! 30 secondi! Ci sono altri droni bomba! Uno! Merda! Codice resettato! Riproviamo! Uno! Sei! Bene! Prossimo codice! 40 secondi e il codice cambierà! Arrivano forze di Alcatara! Confetti! Un minuto! Interferimento! Una, una, una! La... Un minuto! Una, 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 una... Un minuto! Un minuto! Un minuto! Un minuto! 8, 3 Ha funzionato, ora manca l'ultimo Da volta sono 25 secondi Merda, si è retestato, di nuovo 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 Merda, si è retestato Non temere, ci sono io Tempo scaduto Tempo scaduto Tempo scaduto Ci mettiamo troppo Riproviamo Ci mettiamo troppo Riproviamo Ci mettiamo troppo Riproviamo Tre Zero C'è подтвержdено Zattopor Shade Adverso In defesa Abbiamo compagnia! Ricarico! Viro una sente! SEMTEX partita! 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 Ho marcato un bel taglio. Non temere, ci sono io. Devo ricaricare! Ricarico! Ricarico! Grazie infinite. Sto finendo le munizioni. Un secondo di più, forza. Ricarico! Un po' di munizioni! Un'inizio. Occhio! Questo settore è spazzato! Tiro una flashback! Grazie mille. Grazie. Solo qui. Grazie mille. Di nuovo. Grazie. Con me. Vado qui. Devo ricaricare. Devo ricaricare. Mi nuovo. Come. Farah sta al centro. Gaz a sinistra. Sì. Vado. Libero. Niente. Occhio. Mani in alto. Ehi. Poi. Sono morti. Forse è una trappola. Tutto ok. Sono puliti. Niente qui. Sono miei soldati. Questo è Arif. Ho voluto seguire Alex. E Alex dov'è? Ecco 3-1 qui, capo Kilo. Passo. Ecco 3-1, mi ricevi? Sì. Watcher, qui bravo alla ceca. Controllo radio. Laswell, mi senti? Kate. Niente. Non c'è segnale. Cemento e metallo bloccano tutto. È proprio un silo. Ecco. E luce fu. Porca troia. Che Dio abbia pietà di tutti noi. Missile sovietico. Propellente liquido supersonico. Nucleare. Termonucleare. Avrà 50 anni. Almeno. Ci sarà una testata. Scopriamolo. Ci la tomba al P Freare. Terra mitta a andare juanda. In cadre per ibook centrali. Ric tranquili. Ka god,رجal. A cheio. Scopriamolo. A cheio. Grazie a tutti.